I carabinieri della stazione di Fano hanno arrestato un giovane fanese di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari erano andati a casa sua nel quartiere di Fano 2 in tarda serata di ieri per eseguire un ordine di carcerazione per precedenti pendenze con la giustizia e per le quali il ragazzo doveva ancora scontare una pena di tre anni e un mese di reclusione. Un'attività pressoché ordinaria, quella dei militari, che si sarebbe dovuta eseguire con l'accompagnamento in carcere del giovane fanese. Invece l'attenzione e il fiuto investigativo dei carabinieri è stato attirato da un certo nervosismo del giovane alla vista dei militari. Da qui la decisione di procedere ad un controllo più approfondito dell'abitazione che ha portato a rinvenire sul tavolo del salone un bilancino di precisione ed una dose di stupefacente di tipo hashish per i quali il giovane ha subito dichiarato di essere per uso personale. Ma il bilancino rinvenuto ovviamente lasciava presagire qualcosa di diverso. I carabinieri per nulla convinti di quanto ha dichiarato il giovane hanno controllato tutti i locali della casa e nella camera da letto del 24-3 ne hanno rinvenuto altri due panetti di 35 e 70 grammi di hashish, nonché tre grinder, dispositivi con all'interno piccoli chiodi che servono per macinare normalmente marijuana però. La presenza di questi dispositivi ha fatto alzare le antenne ai due militari che hanno subodorato la possibilità della presenza in casa anche di marijuana. Ed infatti, ben occultata all'interno dell'armadio, è stata trovata anche una busta trasparente contenente oltre mezzo chilo di marijuana, nonché altri quattro panetti di hashish del peso di 100 grammi cada uno. Praticamente una santa barbara dello stupefacente, quella rinvenuta, mezzo chilo di hashish e oltre mezzo chilo di marijuana per un valore sul mercato di oltre 20.000 euro. A questo si è aggiunto anche il rinvenimento da parte dei militari di denaro contante di materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Un sequestro quindi importante, quello eseguito dai militari della compagnia di Fano, il secondo in poco più di due mesi. A settembre, infatti, a Cagli venne arrestato un fabbro con oltre un chilo di cocaina che testimonia l'impegno costante dei carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Il giovane 24enne è stato portato in carcere quindi a Villa Fastigi, a Pesaro, il quale, dopo aver scontato le pene pregresse, sarà chiamato anche a rispondere della detenzione ai fini di spaccio di questo ingente quantitativo di droga.